Vitalizzi, io credo che è stato fatto un grande atto di coerenza, di coraggio da parte dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati. E anche prima della votazione della delibera ho ringraziato tutti e anche qui volevo ringraziare gli uffici e funzionari della Camera dei Deputati che in questi tre mesi hanno fatto un lavoro eccezionale che avevo richiesto, un lavoro non semplice, un lavoro complicato, un lavoro di elaborazione dei dati e davvero con una professionalità e una bregazione unica, questo lo voglio dire ufficialmente qui.